Le continue incursioni di Cinghiali ormai non sono più un problema solo economico considerati danni al settore agroalimentare ma anche sanitario, si pensi alla peste suina e sociale in relazione alla sicurezza delle persone e agli incontri ravvicinati sempre più frequenti anche in zone fortemente antropizzate. Ne è convinta col Diretti che dopo la gravissima incursione avvenuta ieri nella scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino torna a chiedere agli enti un intervento efficace perché si risolva una volta per tutte un problema da troppi anni irrisolto. Silvano Di Premio, presidente regionale di Coldiretti. Ahimè siamo di nuovo lì a ripetere tutto quello che noi abbiamo già detto l'anno scorso e anche quest'anno a luglio davanti al limiciclo all'Aquila. Purtroppo non è solo una questione di reddito degli agricoltori, oggi abbiamo anche il problema dell'incolumità e lo abbiamo visto e sentito anche ieri sulle incolumità dei nostri bambini negli asili. Questi animali, questi cinghiali, sono esuberanti, ne sono tanti e fanno un po' quello che vogliono, per cui dobbiamo sicuramente tutelare la nostra vita e quella dei nostri figli. Ulteriormente c'è l'altro problema, come è stato sempre detto, della peste suirina, di questa malattia che viene portata da questi animali selvatici sugli animali domestici che noi abbiamo. Questo non è, ripeto, solo una questione di reddito degli agricoltori, ma è anche per il turismo, per esempio, perché quando la regione magari farà delle zone rosse dove non potranno essere fruite dai nostri turisti, e ne sono tanti, vorrei vedere se questi turisti poi sceglieranno la nostra regione per passare le vacanze. Quindi è tutto un insieme di fattori che vanno a incidere sul reddito, sia nostro ma anche dell'intera collettività. E inoltre c'è anche il problema grandissimo della sicurezza, anche stradale, per cui la sicurezza della popolazione. La soluzione è quale? Certamente l'abbattimento selettivo. Qui c'è la possibilità, innanzitutto, di svolgere l'attività venatoria durante tutto l'anno. Dobbiamo avere il corpo forestale e comunque noi agricoltori con i permessi dovuti, oppure anche con la caccia sportiva. Chi ha un permesso sportivo potrà comunque aiutare a dare questa soluzione. Presidente, c'è una specie antagonista a quella dei cinghiali? È sempre stato il lupo. Il problema è che il lupo, comunque, e qualsiasi animale selvatico preferisce la via semplice, quella di andare sui greggi, quella di andare sui puledri delle nostre montagne e non quella di azzannarsi e magari morire dietro un branco di cinghiali. di cinghiali.